Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi, il mondo continua a esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo continua a esserci. C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci lamentino che siamo. Io non sono diverso. Sì.